Musica Bella a tutti folli e bentornati su DarkFolayChannel con un nuovo video su The Z Standalone Mi sentite con questa voce, mi vedete che già sto scappando perché Praticamente ero con un certo psycho, ovvero un miscritto che mi ha trovato un camion qui nella città della scorsa volta E mentre lui è crashato mi trovo davanti un individuo che mi sta mirando praticamente là davanti E quindi, io pensavo forse psycho perché non sapevo come fosse vestito, invece non è lui Quindi adesso mi frega il camion questo, io quitto Dove sei psycho? Tu penso se c'era qualcuno di armato comunque, io sono armato e sono ancora in place No, no, questo qua si muove, no, 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 questo qua sta a un'intenzione Ok, è armato come? Ah, un Mosin penso Ok, ah beh, allora fa un culo, se ha un Mosin lo rascio io quel fucile a pompa Sì, certo Eh sì eh Che, dove, dove sono? Ma poi siamo in un server mezzo vuoto? Ci siamo in sei, com'è che c'è questo qui? Sì, e in tre siamo qua, tipo, vabbè Allora io sono alla scuola, perché sono finito alla scuola? Se sei alla scuola allora lo becchi da dietro Sì? Sì Aspetta che mi oriento perché non so come ci sono finito qui Allora c'è la police station Allora si scende alla strada principale, eh? Sì, sto scendo Proprio all'introcio, sulla sinistra c'è una casa di legno Proprio davanti al supermercato Eh, c'è questo qui, qua davanti E mi sta fissando in maniera abbastanza strana Allora Oh, lo vedo Io non ho intenzione di sparargli perché Uh, ha sparato lui o ha sparato tu? Io l'ho preso, l'ho preso È morto? Sì Di già? Spera che arrivo Eh, l'ho preso da dire Però gli ho rovinato tutto, mi dispiace No No Vabbè, vediamo cosa aveva Vai a mettersi contro Saigo Aveva l'ascia Buona Vabbè, lasciala puoi ancora recuperare Anche gli occhiali da sole, fichi Quelli ce li anche io Poi vediamo che si aveva Il Mosin, i colpi del Mosin tutti rovinati Ah, aspetta Se ti serve la veste ne ho preso un'altra Te l'hai asciugata Sì, mi servirebbe Aspetta che dentro Vabbè, tu prenditi i vestiti che vuoi No, no, vabbè Carino lo zaino, come l'hai fatto? Eh, l'ho trovato così Buono Se vuoi prendertelo tanto io ho l'altro No, no Vediamo allora Qua c'è il giubbotto antiproiettili Il posto Mettiamo queste qua sopra Io ho troppa roba Ah, ti serve il casco? O qualcosa? Uh, un casco mi servirebbe Dato che mi hanno detto che Questo qua non mi offre protezione Allora, io ho un po' di vestiti a caso Ok Eh, quelli li prendili se ti va Se non entri Allora Il casco qual'è che funziona? Cioè questo qua? Eh, in teoria Welding mask offre difesa o no? No Cioè da dietro no Da davanti potrebbe anche essere Allora, mi metto questo qua di Gorka La maglietta Carina, carina Sembra una pendola Ok, opposto E poi i pantaloni Vediamo Si cosano meglio Comunque ragazzi Questo video dove iniziare Normalmente Dovevo fare una cosa stelta Lui presente Non si vedeva Mi spuntava da dietro col camion Ma Questo c'è interrotto Comunque questo video Dedicato come avete capito Dalla intro A questo camion Che Dopo mille mille anni Sai come ha trovato Guardate Esattamente Lui dice di averlo trovato Dietro il supermercato Cioè praticamente L'altra volta ho controllato E non c'era assolutamente un ciuffolo Quindi sono uno sfigato Comunque Come potete vedere Un veicolo normalissimo Fa anche abbastanza schifo Però vabbè Ci possiamo accontentare Come vedete Se faccio qua davanti Open hood Possiamo vedere il motore Perché è più avanti Molto avanti Ovviamente dovremmo andare A riparare il nostro veicolo Cambiando il motore Mettendo i freni E altre cose Anche mettendo la benzina Principalmente Anche se adesso Il nostro veicolo Cioè funzionerà così All'infinito Non avrà problemi A parte millemila bug E quindi direi di provarlo subito Guido io Guido pure tu Possiamo fare le corse In mezzo all'aeroporto Va bene Giusto Ecco sotto c'è l'aeroporto Ok sei salito Poston Muori Ok Ok Guardate il rumore Molto sexy La velocità Di 8000 Mila chilometri orari Oppo ora Di entrare dentro Le dexture Sì Diciamo che Vibra un po' il camion Vediamo in prima persona com'è La vediamo Giro verso destra Guardiamo Psycho Sembra un talebano Va bene No 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 Occhio Te l'ho detto che non gira Eh sì In effetti è un pochino bloccato Carini gli interni Proprio della Prima della prima guerra mondiale Vai a campi Vai a campi Rally Oh il cartello Non riesco a curvare Questo camion Non neanche il clacson Dai Io volevo suonare gli zombie Ma se per caso Ci colpiscono gli zombie Che succede? Non ne ho idea L'ho trovato prima L'ho nascosto E l'ho aspettato Va bene Quindi ne sei quanto me Perfetto Esattamente Guardi il rumore della Ferrari Si sta riscaldando Ah in teoria Se ti riprenduto Maiusk Dovrebbe accelerare Come su Antis Allora un attimo Forse dobbiamo aprire Il cancello dell'aeroporto Perché ragazzi Questo è l'aeroporto Ma è già aperto Ok giusto Un pochino sfondato Però va bene Ora va Non è entrato Prima di noi No 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 Ma non si fa nulla No È indistruttibile Vabbè Meglio così per ora Sennò già dovevamo cambiare Una ruota Si che è dietro Una due di riserva Però Anche in quest'aeroporto Non ci sono ancora mai stato Da quando è diventato civile Quindi guardiamo questa struttura qui Tu pensi che già ci sia stato No io c'ero stato Quando ero sì civile Ma c'era anche La control tower Eh sì Antio Invece è stata rimpiazzata Vabbè Scendiamo Sperando che nessuno ci fa Che il veicolo Vabbè Sparcheggiamolo qui In doppia fila Sperando che lo zombie Poliziotto Non ci faccia la multa Qui c'è un cammino Inutile Ok vediamo cosa c'è Della cucina Dell'aeroporto di schifo Qui manca un muro Sì A me manca un muro Manca solo a me Oppure Dove? Aspetta che arrivo Qua Qua davanti A me manca un muro Però c'è No no È invisibile davanti Ok a posto Ma dove è il lutto In questa zona? Non c'è A terra c'è un martello Oddio C'è la casa che entra Nell'hangar civile Fatta abbastanza male Per ora Qui c'è Che cos'è? Una carabina Aspetta Io ho anche i proiettili Per quello Hai visto che ho finito Quelli del fucile a pompa Prima Sì Prendi di quello Allora Allora Qui c'è Prendi una scala Che non porta Da nessuna parte Oh Interessante come cosa Qui c'hanno gli armadietti Un pochino random Va bene Ma perché entri eci dalla porta? È aperto di qua Ah giusto A me piace usare le porte Non mi sbaglio a seguire tipo Ah non hai tratto nulla qua dentro? No Vediamo il secondo piano Sperando che questa porta si apre Ma secondo me non si apre Vatti non si apre Vanno le porte finte Esatto Disegnata sul muro Ah Aeroporto per ora è deludente Proprio Che non l'hanno lasciato come prima Eh Perché vicino ai punti di spawn La gente si duppeggiava subito Vabbè Vabbè Non c'è nulla Come anche quello di Balota Infatti a Balota l'hanno spostato Se non sbaglio Mi è venuto in mente il momento In cui su arma 3 Passi in 2 Attraverso una porta E uno muore Uno muore Qui c'è Il panorama dell'aeroporto Va bene Dai Bellissimo Dimmi che puoi scavalcare la porta Non me lo fa fare Vabbè Usciamo Andiamo a riprendere il nostro camion Parcheggiato in doppia fila E andiamo Là sotto O che dovrebbe essere la cosa dei pompieri Penso Non so dove tu intendi Non ho detto di aprire davanti Ok In giro con il davanti aperto Non si può aprire da dentro Aspetta Dai la porta indietro Vabbè sali Vai ci sono Volevo guidare con la porta aperta Funziona Funziona Ma che schifo di porta si apre da dietro Sì Come le prime macchine Che si posso dare le sportellate agli zombie E non la rincorsa Secondo me se passi con la porta aperta Lo butti a terra Si potrebbe provare Ok E questo dicevo che era la stazione dei pompieri Penso sia una stazione dei pompieri Eh Un garage Io li chiamo depositi questi Eh sì Vabbè Quello lì Torniamoci Se faccio aiezione muoio? Eh Se fai aiezione finché sei in corsa muoio Ah ok Ma yes Verso A te serviva da mangiare Oppure risolto Eh no Fatto Fatto Ok Una chemlight inutile Sardina qua E basta Nulla di che Niente 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 Di qua No preso Ecco C'è uno solo scarto Qua c'è qualcosa Tipo Se ti devi verniciare il fucile Dove? Cioè il vernice nero No vabbè Eh Dato che l'avevo chiesto nell'altro video Come si fanno le Come si dice Rimetizzare il Mosin Prendi Trascina il coltello sul burlap Eh L'avevo tagliato E si sono fatti questi burlap strips Ah no Aspetta Aspetta Ti butto a terra Guarda E allora Aspetta E non me li faceva prendere in mano Questo era un problema Perché No Mi è sparita l'arma No Te l'ho messa nella schiena No Qua ho il fucile a pompa Ho messo a terra la carabina Ma è sparita Forra tra un po' Respauna Vabbè Non me lo fa prendere in mano Praticamente Allora forse si Lo tagliate male No No è perché Hanno aggiunto forse La La Ghillie Perché prima Che faceva il burlap E prendendolo in mano Eh si infatti L'avevo fatto una volta E funzionava così Eh E invece adesso Ho fatto le stringhe Non ho idea del perché Forse vi servono più burlap Per poterlo fare Mi so Non ho idea Ce n'era uno Su a crust Prima Vabbè Tanto si trovano in giro Ok Ok perfetto ragazzi Abbiamo controllato un pochino Tutto l'aeroporto Come avete visto Il nostro psycho Cioè ovviamente Dovete tutti ringraziarlo E dovete lasciare un like A questo video per lui Il nostro bandito Di baltimora Che ci ha trovato il camion Comunque direi Di concludere qui Questo primo video Magari nei prossimi Continuerò ad usarlo Se qualcuno non me lo ruba Perché non abbiamo Più quali idea Se si rev il server Cosa succede Se il camion non sparisce Oppure In teoria Se il server è persistente Dovrebbe rimanere qua Quindi Però lo devi Tipo Riprendere Cioè lo devi utilizzare Almeno una volta a settimana Prima della manutenzione Altrimenti te lo rimuovono Quindi ragazzi Speriamo che nel prossimo video Rimanga Noi magari lo andiamo a imboscare In qualche bosco Non ve lo facciamo sapere Se no ce lo fregate Anche se non sapete il server Quindi quasi impossibile Quindi Qui da Dark Da Psycho è tutto Ci vediamo alle 15 Con un nuovo video Ciao ciao Bella 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 Grazie.